alluvioni nelle marche si accelera per la ricostruzione troppi incidenti stradali si invocano investimenti di sicurezza omicidio bruzzese dopo due ergastoli a pesaro si processa il terzo complice volontariato 60 ragazze ripuliscono i quartieri di pesaro le tecnologie di oro e ceramica si mescolano a valle foglia mercoledì 28 giugno buona serata ben ritrovati su rossini tv e ben ritrovati al nostro telegiornale in apertura questa sera parliamo dei due alluvioni che hanno coinvolto il nostro territorio l'emilia romagna e le marche ci sono delle novità la prima riguarda i recenti eventi di maggio che hanno martoriato l'emilia romagna e creato milioni di danni nelle marche il consiglio dei ministri ha incaricato il generale francesco paolo figliuolo come commissario alla ricostruzione da maltempo figliuolo che fu già protagonista come commissario straordinario per la gestione della campagna dei vaccini anti covid per le marche sarà supportato dal presidente acquaroli nominato sub commissario novità anche per l'alluvione di settembre che stravolse territori come cantiano e senigallia una nuova ordinanza governativa consente infatti a partire da oggi di entrare nella fase operativa della ricostruzione con la possibilità di gestire le opere strutturali per la messa in sicurezza del territorio con piani approvati direttamente dalla regione fino ad oggi si potevano invece soltanto avviare interventi di emergenza e ripristino dei danni subiti ed ora cambiamo argomento si terrà domani nel cimitero dell'ulivo di fano l'ultimo saluto a martina mazza 32enne di valle foglia morta domenica pomeriggio nell'incidente stradale sulla monte labattese che vi abbiamo ampiamente argomentato in questi giorni incidente causato dall'auto fuori controllo di sultan ramadani anch'esso deceduto nell'impatto la famiglia mazza ha scelto di cremare il corpo di martina e di organizzare un funerale laico che si celebrerà domani alle 16 e 30 e non si parla solo della tragedia sulla monte labattese è lunga la lista di incidenti più o meno gravi con cui da troppo spesso convivono i territori dell'unione pian del bruscolo secondo il sindaco di valle foglia palmiro chielli quello della sicurezza stradale è un argomento sul quale occorre continuare ad investire e allora ascoltiamolo negli ultimi due giorni ci sono stati due importanti incidenti che hanno visto coinvolta questa zona uno sulla monte labattese e uno in zona cappone ecco questo fa tornare un po alla luce una problematica che in italia sta colpendo diversi territori quello della sicurezza stradale come si può fare per migliorare questo cavillo bisogna rispettare il codice della strada problema è la velocità bisogna non è un caso che a cività smart che nasce un pistodromo per l'educazione al rispetto del codice della strada perché se uno va alla velocità prevista dal codice non succedono incidenti e poi bisogna fare anche degli accorgimenti noi per esempio investiamo molto 550 mila euro già appaltati 550 mila euro da appaltare in sicurezza stradale in asfalti togliere laddove ci sono ancora delle i margini di insicurezza in tutte le strade ovviamente comunali e poi abbiamo messo una cifra rilevantissima di circa 800 mila euro se non ricordo male comuni i comuni per risistemare rendere funzionanti anche coloro che quelle poche telecamere che magari non erano funzionanti e soprattutto altre telecamere nuove e vista red che controllano se uno ha la patente se ha la revisione se ha tutto quello che prevede che prevede la norma di legge cioè fare in modo che tutti possano rispettare il codice della strada se nel centro abitato ci sono i 50 i 30 o i 70 bisogna fare i 30 i 50 i 70 è evidente che non succedono incidenti se non pochissimi se tutti rispettano il codice della strada anzi pensiamo noi abbiamo approvato un campo di calcio campo per atletica e campo da rugby a pian del bruscolo pensiamo che lì ci debba essere una specie di velodromo anche per educare i ragazzini all'uso della bicicletta e l'uso della mini moto delle piccole moto per fare in modo che crescono con un'educazione non solo l'educazione alla legalità di contrasto alla malavita organizzata le mafie eccetera ma anche l'educazione al rispetto dei limiti dell'olicità del codice della strada e salvare tante tantissime vite umane quindi investire in sicurezza dei cittadini investire nel sistema di telecamere per far rispettare anche il codice della strada investire in viabilità e manutenzione in piste ciclopedonali che liberano anche le strade ordinarie comunali provinciali e statali è d'accordo con la nuova proposta del governo ma la proposta del governo se le proposte sono sempre nei periodi quando succede un incidente non è una buona norma tutto quello che serve per salvare la vita delle persone va bene non è che c'è una distinzione naturalmente va fatta una grande opera di educazione che parte dalle famiglie che parte dalle scuole che parte dalle istituzioni per far sì che ci sia una società veramente corretta di una comunità educata ed educante ed ora un'ultima ora una notizia che è arrivata poco fa in redazione riguarda proprio il territorio di Vallefoglia dove un'eliambulanza è atterrata nel pomeriggio per soccorrere un operaio dipendente di una fabbrica nel distretto industriale di Montecchio a quanto si apprende due muletti si sarebbero scontrati all'interno dell'azienda con un operaio rimasto schiacciato da uno dei due muletti in questione la gravità di traumi riportati ha richiesto il trasporto del frito all'ospedale torrette di ancona vi daremo chiaramente ulteriori aggiornamenti nei nostri prossimi spazi informativi ed ora occupiamoci di cronaca e andiamo a ripercorrere e occuparci dell'omicidio di Marcello Bruzzese ucciso per vendetta di Andrangheta il giorno di Natale nel 2018 in pieno centro storico a Pesaro dopo la sentenza di doppio ergastolo a Francesco Candiloro e Michelangelo Tripodi che il tribunale di Ancona ha giudicato come esecutori materiali dell'omicidio a colpi di pistola questa mattina il processo si è spostato a Pesaro per giudicare il 57enne Rocco Versace accusato di concorso in omicidio e ritenuto invece il terzo complice con mansioni determinanti nel pianificare ogni dettaglio dell'omicidio attraverso sopralluoghi appostamenti e fornitura di informazioni il processo era già iniziato a Pesaro ma è dovuto ripartire oggi a causa di un vizio procedurale che ha di fatto annullato la prima udienza questa mattina l'imputato era collegato dal carcere di Reggio Calabria dove attualmente è recluso e cambiamo ancora argomento e parliamo dei tanti giovani volontari al servizio del decoro della città sono esattamente 60 i pesaresi tra i 16 e 21 anni che hanno aderito alla quarta edizione del progetto ci sto a fare fatica armati di scope e pennelli saranno impegnati per tutta l'estate i lavori di pulizia e tinteggiatura di parchi e anche di scuole nei vari quartieri della città vediamo il servizio ci sto a fare fatica è uno dei progetti di protagonismo giovanile a cui questo comune è più legato è il quarto anno a cui partecipiamo al progetto del csv regionale che propone ai ragazzi dai 16 anni fino ai 24 di rendersi disponibili in progetti di volontariato dove in luoghi che rappresentano il bene comune quest'anno i ragazzi sono all'interno degli istituti comprensivi della città sette istituti che hanno indicato piccole manutenzioni e abbellimenti di spazi che possono essere realizzate dalle ragazze e dai ragazzi in questa prima fase abbiamo circa una trentina di partecipanti che si dividono in squadre che sono già all'opera per recuperare spazi cancelli aule di accoglienza delle scuole dell'infanzia e altre piccole manutenzioni un modo bello per mettersi a disposizione degli altri si stanno a fare fatiche sono molto molto entusiasti noi siamo ovviamente molto orgogliosi di questo progetto perché nasce dal volontariato ma poi coinvolge ovviamente come dovrebbe sempre essere le realtà cittadine le famiglie i ragazzi e devo ammettere che dall'inizio ad oggi i numeri sono sempre in aumento e nello specifico devo anche dire che rispetto a tutta la regione Marche pesaro è la provincia che ha avuto il maggior numero di comuni coinvolti e il maggior numero dei ragazzi che hanno poi deciso di partecipare alle attività del ci sto a fare fatica quindi è veramente un'attività di cui essere veramente molto orgogliosi quest'anno sono attualmente 24 i comuni della nostra provincia che hanno aderito al progetto sono già partite su pesaro 11 squadre che dovrebbero essere composte da un minimo di 8 massimo di 10 ragazzi quindi numeri già importanti adesso ma che possono anche aumentare perché le iscrizioni sono ovviamente ancora aperte basta visitare il sito www.cistoaffarefatica.it selezionare il comune di residenza e dare la propria disponibilità o per avere indicazioni ulteriori visitare il sito del csv Marche che www.csvmarche.it l'impegno delle squadre è quello di fare il bene comune quindi tutti i ragazzi sanno che dando la loro disponibilità potranno dare il loro contributo nel manutenere i beni comuni quindi parchi murales della nostra città e in questo caso anche le scuole perché sono quelle che ovviamente li coinvolgono poi in prima persona in cambio di intanto il nostro grazie perché questo è importante perché li fa sentire come dire protagonisti della società della nostra città del nostro territorio in più hanno il grazie dei cittadini che non è una cosa da poco perché in tanti ci hanno segnalato il loro lavoro tra virgolette fatto con veramente grandissima passione e infine hanno un buono fatica dell'importo di 50 euro che possono spendere nelle attività commerciali della nostra città e ha invece i tutor che li seguono il buono fatica di 100 euro momenti di commozione ieri sera all'ex chiesa di san francesco di fano dove il sindaco massimo seri ha consegnato le chiavi della città al vescovo uscente armando trasarti che lascia la diocesi fanese dopo 16 anni di ministero religioso una cittadinanza onoraria ricevuta la presenza anche dei sindaci di fossombrone cagli e pergola che hanno rivolto il loro grazie al vescovo per il percorso di fede intrapreso dal 2007 trasarti lascerà la diocesi al nuovo vescovo andrea andreozzi 55 anni di fermo che si insedierà nel territorio il 9 luglio dal primo luglio e fino alla fine del mese sarà attivato il servizio di guardia medica turistica del distretto di fano gli ambulatori saranno disponibili lunedì mercoledì e venerdì dalle 12.30 alle 15.30 nella sede della guardia medica di fano in via pizzagalli il martedì e il giovedì il servizio sarà attivo a marotta negli stessi orari nella sede della croce rossa italiana nel municipio di pesaro è stato assegnato al presidente dell'enti olivieri fabrizio battistelli e alla memoria dell'insegnante alfonsina tomasucci il premio le finestre fiorite di maria pia gennari il riconoscimento dedicato alla memoria del compianto assessore valorizza personalità della città particolarmente distintesi nell'ambito della cultura e dell'insegnamento spendendoli coniugano sapendoli coniugare con valori come quelli della pace dell'altruismo e dei principi di uguaglianza fabbio basini è stato confermato alla direzione del conservatorio rossini di pesaro per il triennio 2023-2026 proseguendo un incarico cominciato nel 2020 sarà ancora lui a guidare questa prestigiosa istituzione musicale cittadina in un periodo particolarmente intenso in vista del 2024 anno di pesaro capitale della cultura l'elezione per il rinnovo della direzione ha visto un ampio consenso per masini con 98 voti su 120 validamente espressi e questa mattina le nostre telecamere si sono accese a valle foglia dove la storica gioielleria basili ha ospitato un workshop innovativo in cui le tecnologie di lavorazione dell'oro si mescolano con quelle della ceramica e allora vediamo di cosa si tratta sono passione e cura i due valori sui quali si fonda il workshop di gioielleria ideato dalla realtà di valle foglia basili gioielli in collaborazione con l'istituto superiore per le imprese artistiche di faenza un incontro tra due orientamenti solo apparentemente diversi quello dell'oro e quello della ceramica dando vita ad un prodotto tanto sperimentale quanto attuale dai fondamentali di modellazione arcaica alle più moderne metodologie di sviluppo di un gioiello il laboratorio orafo di stefano basili titolare dell'omonima impresa si è mostrato in ogni sua forma e dettaglio attirando la curiosità degli studenti l'isida di faenza che lo gigante è specializzata nella ceramica del design industriale sulla ceramica grazie al professor fiore con cui collaboro delle volte per con dei gioielli e hanno voluto diciamo unire questi due modi provare ad unire questi modi il mondo della ceramica con il mondo del gioiello siamo partiti bene l'alluvione lo gigante ha ridimensionato un po' il progetto però oggi i ragazzi sono qui sono di visita per vedere diciamo appunto l'incontro tra le tecnologie moderne e arcaiche e vedere quali sono i processi produttivi e per prendere maggior consapevolezza per poi progettare cose che probabilmente faranno anche quest'altro anno perché sembrerebbe che diciamo la direzione accademica abbia deciso di questa cosa farlo di tempo permanente o comunque dargli una corposità maggiore oltre al workshop appena finito appena che sta finendo ecco ora ceramica due materiali che sono legati in qualche modo sì con un po' difficoltà infatti qui c'è il cer che è intervenuto il centro di ricerca lì di faenza perché le dimensioni del gioiello logicamente sono un po' complicate per la ceramica sicuramente molto interessante anche perché il mondo della gioielleria si sta andando alla ricerca di materiali diversi tipo appunto il titanio per il metallo e la ceramica potrebbe essere qualcosa di molto interessante piuttosto che usare pietre sintetiche o cose molte volte dire anche meno nobili ecco è stata anche una vera e propria visita all'interno del vostro laboratorio i ragazzi sono stati davvero entusiasti sì sì perché logico di tutto quello che gli avevo un po spiegato illustrato con le slide vederle voi fate vedere dal vivo toccare con mano anche interagire con i ragazzi stessi noi siamo una realtà di 23 persone che è già corposa perché calcolando che la dimensione media e quindi 15 persone in italia solitamente i laboratori orafi sono piccoli logicamente il nostro è anomalo perché facciamo produzione anche per cui tutto sviluppo prodotto tutto quelle che sono diciamo un po tutte le fasi c'è molte volte sono realtà diverse aziende diverse noi abbiamo concentrato tutto interno per cui tutti internamente per cui i ragazzi che probabilmente diventeranno più designer che esecutori non è detta poi anzi qualcuno sembra che abbia intenzione di farlo a fare l'incastronatore e vederle logicamente si prende consapevolezza e nasce la passione ecco la formazione importante soprattutto in un settore che non sta vivendo un grandissimo periodo per quanto riguarda l'occupazione è in difficoltà nel senso che abbiamo avuto allora l'italia una volta era il primo posto a livello di produttore mondiale sono rientrati tutti i grandi brand stranieri diciamo dalla thailandia da kug e dall'asia e sono ritornati d'italia è l'unico posto dove si può far gialleria ad alto livello il problema è che il buco formativo che c'è stato in questi anni e oggi un gap di 3.000 persone di una carezza di 3.000 persone fortunatamente c'è un grande interesse da parte dei ragazzi e che non trovano strutture e per cui il cercare di a breve di diciamo far avviare dei corsi fatti bene perché il problema di che di corsi farlocchi diciamo di corsi dove servono per spillare soldi ai ragazzi ce ne sono e purtroppo invece vogliamo fare qualcosa che sia veramente formativo a se possibile anche gratuitamente la vostra è una piccola impresa del territorio locale di pesaro urbino però con un cuore grande e tanta la collaborazione con imprese invece molto importanti a livello nazionale ma anche internazionale sì sì diciamo che la nostra peculiarità è proprio quella dello sviluppo prodotto e di conseguenza questo ci ha permesso in prevalenza di lavorare con diciamo aziende fuori territorio cioè noi abbiamo tutti i clienti che sono prevalentemente del nord non solo e all'estero e vengono fino a pesaro per dei motivi precisi che sono quelli dello sviluppo prodotto dalla tecnologia dell'arte ora fa passiamo a quella informatica sempre più pervasiva nei processi di agricoltura e allevamento è il caso delle aziende marchigiane di produzione del latte che oggi hanno presentato ad ancona un significativo progetto di innovazione tecnologica fotografare il quadro della zootecnia da latte della regione marche sperimentando un innovativo modello di gestione basato sui più recenti criteri dei precision farming e questo l'obiettivo delle progetto di zootecnia di precisione al centro di un convegno svolto questa mattina ad ancona nella sede dell'istituto zooprofilattico dell'umbria delle marche capofila del progetto finanziato dalla psr marche e tre valli copperlat progetto della durata triennale che si è attuato attraverso l'utilizzo di una piattaforma informatica capace di fornire agli allevatori da latte bovino e ovino della regione alcune informazioni utili a ottimizzare la gestione aziendale migliorando nella produttività le performance e l'efficienza così come la qualità e la redditività delle aziende gli obiettivi è il miglioramento gestionale dell'allevamento cioè quindi un miglioramento per arrivare a quello che è una richiesta dei consumatori che va verso una sostenibilità ambientale una sostenibilità anche qualitativa economica eccetera il modello è stato sperimentato su un campione rappresentativo di 70 aziende zootecniche bovine e ovine il sistema raccoglie informazioni le rilabora attraverso lo sviluppo di un algoritmo e restituisce le aziende alcune indicazioni su quattro punti chiave il benessere animale la biosicurezza la sanità e l'utilizzo del farmaco il sistema poi riconsegna il grado di efficienza dell'azienda rispetto a quelle che sono le criticità sia strutturali che gestionali sulle quali intervenire è una piattaforma informatica la quale l'allevatore ha accesso e ha la possibilità di visualizzare l'andamento della sua azienda in termini di salute benessere e gestione del farmaco attraverso dei cruscotti e poi visualizzando le medie geometriche cellulari e della media geometrica batterica del proprio latte di massa e inoltre la propria forma restituisce sostanzialmente tutte quelle che sono le criticità sulle quali principalmente l'allevatore deve intervenire per garantire il benessere e la biosicurezza del proprio allevamento. A Pesaro è in corso la settimana di eventi della tradizionale festa del porto aspettando i fuochi d'artificio che come ben sapete saranno domenica sera l'antipasto del sabato della festa sarà dedicato sempre al sempre partecipato concorso di pittura. Vediamo. Il concorso ormai ha preso piede a livello nazionale perché siamo al quindicesimo anno è nato da un'idea diciamo di Franco Signoretti durante un viaggio di vacanza insieme a noi al gruppo del porto e siamo andati avanti con aspettative che onestamente arrivare a questi livelli non ce l'aspettavamo. Il concorso è estemporaneo quindi quello che si vede direttamente al porto di Pesaro si dipinge, i quadri devono essere riportati entro le 16 del giorno stesso di sabato e alle 19 è prevista la premiazione sotto il salone del porto nel campo da basket come ogni anno del resto. Sono previsti premi importanti, il primo premio sono 700 euro, il secondo 450, il terzo premio sono 250 euro e poi c'è un premio speciale in Maccorvo di 300 euro. Quest'anno abbiamo aggiunto altre 7-8 premi da 200 euro l'uno a ex equo quindi dal quarto premio in poi ad ex equo vengono premiati gli 8 quadri dalla giuria ritenuta insomma i migliori. E' possibile iscriversi fino al giorno del concorso presentandosi direttamente in segreteria in via Cecchi 22 oppure si può andare sul sito www.quadelport.it a prendere, a tirare giù la scheda di iscrizione e presentarsi il giorno del concorso. E' possibile anche iscriversi telefonicamente telefonando al 348 40 35 875. Ci sono dei premi anche per i 10 migliori under 14 che sono dei buoni spesa da 30 euro l'uno. Continuiamo a parlare di eventi perché dal 30 giugno riparte Conterranea Festival che nobilita l'olio DOP, Cartoceto e le eccellenze enogastronomiche del nostro territorio. Nelle location dei comuni dell'areale DOP Colli al Metauro, Monbaroccio e Cartoceto si tratta di un dinner tour che vuole far scoprire le suggestioni di questi territori unendo ristorazione, luoghi di interesse storico e paesaggistico, musica di qualità e riflessione colta. Il viaggio, condotto dalla narrazione di Filippo Paolasini, inizia questo venerdì alle ore 20 e 30 in Piazza Bramante di Montemaggior al Metauro. La proposta della cena sarà curata dagli chef Arsenio Teloni e Matteo Valdelli del ristorante Da Matteo con la collaborazione del divulgatore enogastronomico Gianluigi Garattoni. La serata sarà accompagnata dallo spettacolo musicale di Frida Neri, Viaggio sotto i cieli del mondo e da un talk show culturale di Massimo Fucci, divulgatore scientifico del Museo del Bali. Ed ora ci occupiamo di un altro evento e allora ci spostiamo a Pergola dove dal 6 al 9 luglio si terrà la quarta edizione del Alter Art Festival. Nella sede di Confcommercio, partner di questo evento, è stata presentata una rassegna votata ad abbinare inclusione sociale con arte, teatro e danza. La prima edizione si chiamava Giovani Movimenti del Territorio perché coinvolgeva semplicemente tendenzialmente i giovani artisti dei territori marchigiani. Poi nel 2018 abbiamo iniziato con il sostegno della comunità europea a poter invitare e collaborare con partner europei che lavorano nella stessa direzione nostra. Quindi c'è stata proprio un'apertura, un'internizializzazione dei territori e del festival e quindi è diventato Alter Art Festival. Siamo molto soddisfatti di questo andamento. Tra l'altro parlavo con il responsabile della Confcommercio che quest'anno abbiamo avuto veramente una collaborazione di tutti gli artigiani, i commercianti di Pergola che insieme stanno costruendo questa quarta edizione. Questo ci fa molto piacere perché le attività si fanno sul territorio, per il territorio e quindi vanno portate avanti insieme. Proprio per ridare quel senso di comunità attiva e anche per incentivare i giovani a rimanere sui territori che spesso vengono ritenuti marginali rispetto alle grandi città, ma che appunto a differenza delle grandi città hanno questi grandi spazi anche legati alla natura, dove per esempio le attività artistiche sono molto facilitate proprio per questa apertura, questo grande respiro che si ha. Quindi sicuramente è questo l'obiettivo principale. Noi non possiamo che essere onorati della presenza di questo festival che si ripete nell'arco di questi anni e siamo assolutamente fieri che Monia e tutta l'organizzazione diano fiducia al nostro territorio perché noi diciamo viviamo sulla nostra pelle lo spopolamento e i problemi che questo causa e quindi quando un gruppo di persone, artisti e soprattutto con una tematica così sensibile, così importante si occupa, ecco, coinvolge il nostro paese è assolutamente da valorizzare. Noi siamo assolutamente contenti che prosegua tutto e sempre di più, insomma, anche perché negli anni è cresciuto il festival e quindi ha abbracciato e ha fatto sì che la sensibilizzazione verso questo tema fosse anche più corposo, ecco. Eccoci arrivati alla fine di questa edizione del nostro telegiornale. Questa stessa edizione, vi voglio ricordare, la potrete rivedere alle ore 20 e 30 e poi domani alle 6 e 30 e alle 13 e 30. Inoltre potrete rivedere tutti i servizi del nostro telegiornale sul nostro sito internet rossinitv.it e sulla nostra pagina Facebook. E adesso invece andiamo a vedere cosa accadrà subito dopo questa edizione, infatti intorno alle 20 vi mostreremo questo importante interessante convegno che si è tenuto all'interno del Festival del Cinema di Pesaro organizzato da CNA Cinema e Audiovisivo un convegno dal titolo Cinema e Territorio. E poi alle 21.20 nella nostra prima serata ci sarà l'ultima puntata di Amministrando. Questa sera protagonista sarà la sindaca di Montelabate Cinzia Ferri. Mentre domani io vi aspetto puntuali alle 7.20 in diretta sul nostro canale 80, sulla pagina Facebook, sulla nostra applicazione e in streaming dal sito internet. Per restare sempre aggiornati con noi e con la nostra programmazione seguite i nostri social Facebook e Instagram e chiaramente scaricate la nostra applicazione. Buona serata.